Dalla mezzanotte del 23 dicembre, probabilmente in tutta Italia e anche in Abruzzo, tornerà la zona rossa, negozi chiusi per i giorni di festa anche a cavallo del Capodanno e dell'Epifania. Cosa significa per il commercio questo? Per il commercio innanzitutto significa una chiusura anticipata di un percorso che in realtà si vede proprio in un apice negli ultimi giorni un acquisto maggiorato all'interno delle attività commerciali. Di solito il 24 è una giornata di incasso incredibile, pur sapendo che c'è una flessione economica però si aspettavano un incasso importante. Per la ristorazione è un danno irreparabile perché si aspettavano di poter lavorare a pranzo dopo un lockdown importante per loro, in realtà questo non potrà avvenire e ci aspettiamo su questa scelta del governo dei ristori importanti che non siano più quei ristori che fino ad oggi sono stati elargiti. Adesso bisogna ragionare su un'economia che vada in percentuale importante, 60-70% delle perdite ricevute perché altrimenti non potranno riaprire tantissime attività. Dopo l'Epifania tra l'altro dovrebbero partire i saldi? Sì, il 5 che dovranno partire i saldi partiranno a questo punto il 7. Ci auguriamo e quindi a questo punto penso che sia la data giusta che avremmo un periodo di zona gialla o al massimo arancione per poter cercare di far vendere quei capi invernali che altrimenti sappiamo benissimo in marzo e in aprile non verranno venduti. Siamo molto molto preoccupati di questa situazione. Ci rendiamo conto della pandemia, dobbiamo però trovare soluzioni adeguate che riescano a far mantenere in piedi il sistema economico, soprattutto il commercio, la ristorazione e la parte turistica.